Lo so, siamo finalmente tornati con una Top 10 Orange per parlare dei migliori film con Batman. È passato tantissimo tempo dall'ultima Top 10 Orange e quindi non perdiamo tempo ed iniziamo subito con la decima posizione in cui troviamo Batman v Superman, film che ha tantissimi difetti tra i quali non rientra il Batman di Ben Affleck. Per mio modesto parere, anzi ho trovato molto interessante questo Batman. Mi piaceva tantissimo il fatto che questo Batman era ricollegato alla serie Arkham dei videogiochi, anche il suo modo di combattere e poi il fatto che era così ben piazzato, tozzo, con il costume grigio, era figo. Mi piaceva lo stile di combattimento e il costume. Mancava però la trama, la storia e quant'altro. Numero 9 Nona posizione per il fantasmagorico Batman e Robin. Ve lo dico spesso, il miglior modo per descrivere questo film è... Capezzoli! Però quest'oggi voglio soffermarmi su questa cosa dei capezzoli. È di poco tempo fa, perlomeno io l'ho letto poco tempo fa, all'intervista del costumista del film. Dichiarò che quei capezzoli non erano soltanto per puro motivo feticista, ma era dettato dal fatto di voler richiamare le armature romane che effettivamente hanno questa peculiarità. Già era presente nel film precedente, cioè Batman Forever, ma il regista volle accennarlo ulteriormente, e quindi questa cosa venne esasperata per questo film. Numero 8 Un film animato penso che per questa classifica ci stia veramente bene, ce ne sono tantissimi, come il Batman Samurai, non mi ricordo il titolo preciso, ma ho scelto Lego Batman, per due principali motivi. Uno, la voce di Will Arnett, che è azzeccatissima, profonda, bella, grave, fantastica, e poi tutto il mood, leggero, scansionato, che c'entra poco poi con le atmosfere di Batman, vero, però un film leggero, una top ten, ci poteva anche stare, quindi scelgo lui come film animato, con dei personaggi veramente caratterizzati molto bene, fra cui anche il Joker. Tutto in chiave Lego. Numero 7 E passiamo a parlare del primo Batman di Nolan per questa classifica, quindi non in ordine cronologico, perché parliamo del Cavaliere Oscuro in ritorno. Da notare il fatto, molto divertente, ma neanche tanto, che soltanto i film di Nolan, a eccezione fatta per il primo, non si chiamino Batman, ma Dark Knight Cavaliere Oscuro. Film stupendo, meraviglioso, intenso, che ha il difetto unico di non avere il Joker per questo film. Ha qualche mancanza rispetto al capitolo precedente, c'è qualche passaggio che funziona leggermente meno bene, però tendenzialmente è un ottimo prodotto. Ha dei momenti toccanti ed è un'ottima conclusione. Numero 6 E dopo aver parlato del Batman e Robin di Schumacher, continuo a parlare del regista con il suo Batman Forever. Diciamo che nei due film di George Schumacher mi piace tantissimo il mood che ha adottato, con i cattivi che ha utilizzato. Comunque abbiamo Arnold Schwarzenegger, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Uma Thurman, questo film che è fantastica, e però c'è quel non so che, quel sapore che comunque me lo fa piacere. E vi ricordo che comunque li ho visti a ritroso. Cioè quindi il quarto, poi il terzo, il secondo, il primo, quindi George Schumacher e poi Rimbardo. La cosa più interessante dei due film di George Schumacher sono i colori. Sono sicuramente i film più colorati dell'universo di Batman. Potremmo parlare anche di Suicide Squad, ma non c'è Batman lì. Una cosa molto interessante sarebbe immaginare come sarebbero questi due film visti sotto l'effetto DLSD, per esempio. Secondo me sarebbe una cosa veramente fuori di testa. Ho la mente un po' deviata, però questo film tendenzialmente mi è piaciuto. Numero 5 E parliamo finalmente del primo capitolo della trilogia di Nolan, Batman Begins, film che mi colpì profondamente perché non me lo aspettavo così realistico. Ero un ragazzino, allora avevo appena 12 anni e mi aspettavo una roba mega fumettona, qualcosa che mi ricordasse vagamente Spider-Man, seppur anch'esso sia abbastanza realistico, comunque però con una vena comica in alcuni punti, una vena di leggerezza. Questo film è bello per questo. Ha portato Batman nel mondo reale. Rispetto a quello gotico di Tim Burton che era fantastico per carità, ma questo approccio l'ho adorato fin dal primo istante e il Bruce Wayne di Christian Bale funziona per me divinamente. Numero 4 Signorino Bruce, ma perché sta sempre al buio? È pieno giorno. Questa è stata una notte dura e tempestosa, Alfred. Signorino Bruce, non è vestito da Batman, non parli così. Ok, hai ragione, non serve Alfred. Quarta posizione, medaglia di legno per l'ultimo film in ordine cronologico di uscita, per ora chiaramente, vale a dire il The Batman di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson. Premessa, mi è piaciuto tantissimo questo film, lo adoro e ho avuto difficoltà a metterlo soltanto in quarta posizione, ma vedrete che gli altri tre anch'essi meritavano la prima, la seconda, la terza posizione, era difficilissimo e ho fatto questo ragionamento. Questo The Batman va comunque preso come primo capitolo di una saga e quindi per valutarlo in toto aspetto poi la conclusione di essa e poi lo rivaluteremo insieme agli altri capitoli. Per ora, film maestuoso, realistico, noir, crudo, bello. Mi ero comunque già espresso sul film nella recensione che potete comunque recuperare qui nelle schede. Numero 3 Terza posizione e medaglia di bronzo per il primo film di Tim Burton in questa classifica, che però è il secondo, non il primo. Sto facendo questo gioco per confondervi le idee. Batman in ritorno, quello con i cattivi, il pinguino fantastico e Catwoman. Sicuramente per questi film Tim Burton ha avuto il grandissimo merito di azzeccare praticamente tutti i cattivi e di riuscire a trasporli in modo fumettistico. Tra il quartetto di film, questi di Tim Burton e quelli di Schumacher, il ritorno è sicuramente il più gotico, il più cupo, il più oscuro e tetro. Ed è per questo che molti lo preferiscono spesso al primissimo. Ma per me il film del 1989 meritava un'altra posizione. Numero 2 E la posizione in questione è proprio la seconda, medaglia d'argento per il primo Batman di Tim Burton. Io sono veramente un fan accanito di Jack Nicholson e del suo Joker. Riuscire a trasporre un fumetto in questo modo così riuscito era un'impresa veramente impossibile. Fino alla sua interpretazione. Se gli vogliamo trovare un difetto per così dire è un po' in sovrappeso per essere il Joker, però per il resto è lui. Colorato, irriverente, divertente e con dei gadget veramente stravaganti, ma anche Batman non scherza da quel punto di vista. E Michael Keaton ha inaugurato il periodo del Lattex. Ricordiamoci che fino a questo film i supereroi che si erano visti fino ad allora nelle serie tv e nei film erano in calzamaglia, inguardabili. Lui ha trovato le scamotage per far sembrare un supereroe fico. Anche se poi non è super. Numero 1 Ragazzi, il film più bello secondo me fra i vari con protagonista Batman e per me chiaramente, quindi per voi potrà differire, è sicuramente Suicide Squad, c'è in un frammento, però wow ragazzi, sto scherzando, sto scherzando, vi prendo in giro. Prima posizione, medaglia d'oro per il Cavaliere Oscuro. Devo dire altro.